In un recente mini video su TikTok ho affrontato l'argomento furto di energia elettrica con diverse reazioni e opinioni ed esperienze personali da parte di chi mi segue su quella piattaforma. Bene, ritengo che valga la pena spendere qualche minuto in più con questo video parlando di questo argomento e vediamo come da vittima di un sospetto furto di energia elettrica ci si deve comportare. L'obiettivo di questa chiacchierata sarà anche quello di invitarci se siamo vittime o pensiamo di essere vittime di un furto di energia elettrica a mantenere la calma perché un'azione affrettata o un provvedimento impulsivo può farci anche cacciare nei guai perché accusare qualcuno di un reato quando non siamo le persone competenti per farlo potrebbe essere una cosa che fa girare completamente la situazione e quindi a quel punto quelli che commettono qualcosa verso qualcun altro possiamo essere noi piuttosto che l'altro nei nostri confronti. Il furto di energia elettrica si può dividere credo in due grosse categorie, quello fatto alla rete di distribuzione e quello fatto attraverso i giochetti che si fanno sull'impianto elettrico. Sicuramente il sospetto parte da una condizione anomala sul nostro impianto elettrico che probabilmente si riflette sulla nostra bolletta quindi se abbiamo il sospetto ce ne accorgiamo perché sulla nostra bolletta ci sono improvvisamente dei numeri che si alzano pur mantenendo lo stesso tenore di vita. Allora in quel caso dobbiamo capire se sul nostro impianto elettrico c'è un'anomalia quindi qualche apparecchio o qualche porzione di impianto elettrico all'improvviso provoca una dispersione, provoca un consumo insolito o anomalo ma se abbiamo l'impianto a norma molto probabilmente ce ne accorgiamo perché una dispersione ad esempio provoca il distacco imposto dei sistemi di protezione. Allora lì provvediamo a cercare quella porzione di impianto elettrico che ci crea problemi. Se invece l'impianto elettrico si trova in buone condizioni e la bolletta è pazza e non è il gestore che ci dà il contatore difettoso allora possiamo affermare abbiamo il diritto di pensare che c'è qualcuno che preleva energia elettrica in maniera impropria ce ne possiamo accorgere o comunque possiamo alzare il livello di allerta anche perché vediamo lampeggiare il contatore in maniera diciamo molto veloce perché le spie comunque indicano il flusso di energia che viene erogato in quel momento anche quando abbiamo dei consumi estremamente ridotti. A questo punto se siamo sicuri che il nostro impianto si trova in buone condizioni possiamo iniziare a fare delle prove per esempio togliendo tutte le spine tutti i carichi nel nostro impianto e vedere se ancora sul contatore lampeggiano le spie che ci indicano ci fanno capire che c'è un consumo istantaneo non indifferente. Oppure possiamo direttamente staccare il centralino quindi il salvavita di casa nostra e capire se il contatore ancora eroga energia un'altra prova potrebbe essere staccare il contatore dell'enel o del gestore equivalente e capire se a qualcuno che non fa parte della nostra famiglia manca energia elettrica. Quindi qui bisogna agire con molta calma perché come detto prima è molto facile cacciarci nei guai quando pensiamo di accusare qualcuno e non abbiamo le prove proprio certe. Volendo schematizzare la situazione di cui stiamo parlando questi potrebbero essere tre contatori che si trovano molto vicini tra loro e questo con l'asterisco quello nostro questa è la linea che va a finire a casa nostra ed è proprio in prossimità di questa tratta che c'è la zona comune può esserci ad esempio una botola all'interno della quale c'è il passaggio di diverse linee oppure una cassetta condominiale di derivazione dove poi le linee iniziano a prendere strade diverse quindi potrebbe esserci questa situazione dove per esempio qui c'è il passaggio di due linee ed è proprio qui che avviene il giochetto. Il malintenzionato per esempio può prelevare energia andandolo proprio a prendere attraverso i capi, sguainandoli e portandola verso il proprio percorso probabilmente avrà pensato di creare qualche macchinigine per dividere l'impianto in due prelevando l'energia una parte dal nostro contatore quindi dal prelievo illecito e una parte dal suo contatore o addirittura qualcuno si fa proprio faccia tosta e la prelieva tutta. Il prelievo illecito che ho schematizzato in questo modo può avvenire direttamente dalla morsettiera del contatore Enel dalla parte di sotto dove si fa partire un'altra linea ma diciamo questo giochetto lo possiamo trovare quando per esempio queste morsettiere sono mascherate per mettere ordine e pulizia all'impianto attraverso delle canalette dei coperchi e quindi qualcuno nasconde per esempio il prelievo illecito. Può anche avvenire in prossimità di un contatore condominiale dove partono diverse linee per esempio una per il cancello automatico una per la parte di illuminazione degli spazi esterni condivisi e mettendo un'altra linea il furbetto pensa di mascherarsi insieme alle linee presenti. Ciò può avvenire anche nel nostro contatore o appunto collegandosi attraverso i morsetti che possiamo trovare sia a balla del contatore sia per esempio in prossimità di un centralino che per esempio fa dividere la linea per la nostra cantina per il nostro garage per il nostro appartamento negli spazi condivisi oppure prelevando energia attraverso questo sistema quindi possiamo trovare un filo sguainato in modo che si affaccia il rame dove appunto si ha la possibilità di appoggiare un altro conduttore e prelevare energia. Assicuriamoci comunque che le linee che non riconosciamo come nostro impianto non siano effettivamente nostre e siano state installate appunto da qualche malintenzionato ed è per questo che dobbiamo evitare secondo me di avventurarci a setacciare l'impianto anche se pensiamo di essere le persone competenti. Innanzitutto appunto per un discorso di pericolosità perché in prossimità di queste linee potrebbero non esserci sistemi di protezione quindi il salvavita e poi perché noi possiamo non essere le persone neutre che mettono mani in spazi condivisi dell'impianto. Se c'è qualche altro condomine che al sospetto di furto di energia elettrica potrebbe accusare noi di operazione illecita per esempio perché ci trova che stiamo mettendo mani alla parte condivisa mentre noi effettivamente siamo alla ricerca di un'anomalia quindi dalla ragione possiamo facilmente infilarci in una situazione di torto o comunque di sospetto nei nostri confronti. Il consiglio appunto è quello di coinvolgere una persona estranea ai fatti, estranea agli spazi condominali che comunque può mettere mani e possiamo considerare autorizzata. Secondo me da persone coinvolte ai fatti anche se siamo vittime l'unica operazione che possiamo effettuare in maniera autonoma è quella di staccare il condatore e capire se qualcuno a cui mancherebbe l'energia elettrica che viene dal nostro condatore si mette diciamo in movimento per andare a capire da dove manca energia o comunque gli manca qualche cosa a casa a livello sempre di energia elettrica ma oltre questo consiglierei di non andare. Una volta che il nostro installatore o chi setaccia l'impianto è sicuro che c'è una derivazione impropria possono diciamo nascere due strade quella di scollegare questo ramo di impianto elettrico che pensiamo che non ci riguarda e a quel punto poi controlliamo cantina, garage, appartamento e se l'energia elettrica arriva regolarmente siamo ancora più sicuri che quel ramo di impianto elettrico era il ramo incriminato. A questo punto valutare se lasciare le cose come sono quindi staccare questo pezzo di impianto, tagliare i fili, chiudere tutto oppure procedere per via legali. Se si procede per via legale o comunque accusare qualcuno di prelievo illecito di impianto elettrico sicuramente deve far coinvolgere delle persone che possono dirlo anche se siamo sicuri non possiamo dirlo noi perché al di là degli istinti, delle reazioni affrettate che possono esserci e quindi farci cacciare nei guai ricordo che non siamo le persone adatte per accusare quindi dobbiamo chiamare gli organi competenti, fare denuncia, chiamare i carabiniere e comunque portare avanti questo discorso facendoci accompagnare dalle persone che comunque sono adatte a farlo. Questo è un buon motivo per ricordarvi che con la corrente elettrica non si scherza sia dal punto di vista tecnico quindi quando ci avventuriamo impropriamente a mettere mani sul nostro impianto o su quello degli altri sia dal punto di vista legale perché anche se non sono la persona competente per dire di che reato si tratta sempre di reato parliamo quando si va a effettuare un furto di energia elettrica nei confronti di qualcun altro. Spero che il video sia stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate attraverso lo spazio sotto il video dedicato ai commenti e magari se avete avuto a che fare con questo spiacevole fenomeno e volete scrivere la vostra esperienza mi farebbe piacere leggerla e capire come l'avete affrontata. Ho dei canali social attraverso i quali mi potete seguire menzionati qui sotto nei commenti e anche il canale tiktok dove ogni tanto e metto dei brevi video dove in maniera più spensierata di quella che si svolge su youtube racconto qualche cosa che ha a che fare sempre con il fai da te. Da Sibito Ruiz è tutto io vi ringrazio e alla prossima! Grazie a tutti!